Amici benvenuti in questo nuovo video di SamPlay096 Io sono Babi E lei è Samuel Cosa giochiamo oggi? Hello Neighbor vi devo dire che ho fatto una cosa dal computer Vai cominci a camminare Questa volta Hello Neighbor in casa sua non c'è Vedete che la porta è sempre chiusa Quindi il basement segreto sarà qui dentro Vediamo prima se ci sono pericoli Perché ti ho detto bianco qua? Mi ha chiesto Beh è sempre più bello È un bug Ah perché c'era questa cosa qua È uscito Ah è uscito Oh piccolo Ah sai l'altra casa Ma vedi Ho fatto una cosa dal computer Era che lui Che il basement segreto Era da un'altra parte Qua era Pensiamo Oh no ci sono delle sedie Che non possono passare Ma lei che può prendere qua Di vicino No Questo è Questo è il caso nostro Però ho fatto un esperimento Che lo metteva qua il basement Quindi il semitterraneo segreto Bene Hai lasciato la doccia aperta Chiudila si consuma l'acqua è peccato E la metto il telefono Ma che è una cornetta del telefono E tra la vasca Allora questo sarà Lo di vicino a casa nostra Sì per ora non può più venire Valla a posare nel posto di suo Il telefono Soprattutto facciamolo smettere Con L1 Con L1 e con L2 No con L Vabbè Va bene La posiamo proprio ben Diciamo Sì con L1 Veniamo se accende con L1 Se lo vuoi spegnere Sempre L1 Bene Chiudi così non si può posare Ma meglio di prima Infatti Perché lui chiude sempre sta porta? Maledetto Ovviamente casa sua Chiudiamo Devi andare poca casa sua No Perché? Perché no Perché Perché mi ha messo il basement qua Non c'è nulla Che sta qua sotto? Ahà Avevo trovato una tazza Una brocca E che serve sta brocca? Eh si mette la bibita dentro E si versa poco alla volta Beh allora Sta brocca ho capito che serve Sì infatti serviva A quella striscia bianca del tubo Che guarda un po' Diventa bianca Quello serviva Andiamo sopra Vediamo se ha trovato qualcosa Ecco il basement segreto Vediamo 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 cosa si fa Cioè ci vorrebbe una serratura? Ha messo una serratura davanti alla porta Perciò non si apre Sì Ci sono dei libri Questa è la grande Come si può entrare ora? Ah qua è aperto già Poi Qua c'è Uno sgabello Bene Con un libro No no Lo sgabello non avevo un libro Cosa aveva? Devo cercare qualcosa Per rompere questo Questa mattina Soprata con La mattina che stava su fuori Perché non è buono Dobbiamo trovare un pacco Un pacco di qualcosa Per far funzionare Una cosa Eccolo qua il pacco Facciamo funzionare quella cosa Allora E cosa vorresti funzionare a questo pacco Dobbiamo mettere degli oggetti qui dentro Tipo bendy Quanti oggetti sono? Allora adesso ne ho visto uno Ah il secondo c'è già Benissimo Questa è la mattina E adesso non c'è Apriamo per ricordarci Andiamo a cercare l'oggetto Vediamo pure fuori Sono foglie Ma che cos'ha? Non si parla a girare A fuori del mambo Non c'è Non ci sono le girate Qua lo sono E là c'è il suo basement Qua non mi pare di vedere nulla Qua vedo qualcosa Qua è la corrente È vero Hai staccato la corrente Tutta la casa Praticamente Vabbè Sennò vediamo tutto buio E non capiscono nulla Allora il tavolo è sempre marrone Pensavo di vedere il bianco Dalla lontana Allora Benissimo Cerchiamo qualcosa Può andare bene la lattina Non ho mai visto il bug del gioco La lattina vola Come fa a volare questa lattina? Che assolutà Infatti Che cosa pazzesco questa lattina che vola Corriamo con le due Si corre Non si capisce Sì come le due si corre Come cappero corre questo personaggio maledetto Che sei buttato il possibile in questo mobile Sì perché poi Dopo dobbiamo usare Eh che cavolo Va tutto là nel vetro No dobbiamo mettere la qua Allora Arriviamo con il tavolo Il tavolo si è bagato Eh ma come lo hai tutto il tavolo là Che tutto lo c'entra Tutta quella buccia di banana La buccia di banana E questo qua Vediamo se funziona Abbiamo messo ben tre oggetti Quindi Ora dobbiamo soltanto cercare qualcosa Nel bambinetto non c'è nulla Nella vasca è un bambino controllato Qua c'è gottasvip Assomiglia Uguale Sì Il colore cambia E' uguale Che profilo che mi portai le spalle E se dobbiamo trovare qualcosa Che può Ah no La cosa stava al dentro Ah ho capito Forse ci serve un libro Per lanciarlo addosso E poi si possono aprire le porte Due di libri Vediamo se con il libro funziona Cioè credo E' vero che con il libro può funzionare Forse si Dobbiamo provare Beh proviamo Guarda Sto andando Bene Possiamo togliere un'ora L'abbiamo pagata tutto bene Guarda il bambino Ora posso togliere due Tanto i bagazzi stanno là Ah Ho capito Ho capito Che successe Se c'è una scatola Per vedere cosa c'è nel bambino Mentre sei diretto E' vicino Ok Qua sono gli armadietti ovviamente Dove ti ci puoi nascondere Guarda 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 Così nascondi l'armadietto Guarda Sì Pronti Se non puoi 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 Eccolo qua Benissimo Ok Apriamo la sinistra Adesso nemmeno la chiusa Calma eccoci bene ce l'abbiamo fatta criminale, rotto la finestra criminale ora dovevo vedere cosa c'è in un seguito basement cos'è questo? ah, non l'altro ah, infatti è qua vedi, vedi che aveva messo davvero una sedia oh, ma non è che sta rotto il vetro non può cambiare la capilla non è normale che il vetro è rotto abbiamo scoperto praticamente questo peso infatti vedi che ci sono le scale ma c'è stata una cosa che non mi ha detto che abbiamo aperto è quasi con l'uscita se abbiamo fatto il giro per tutta la casa perfetto bene ora dobbiamo vedere la ricompensa perché che ho passato da qua ma dobbiamo passare da qua no, ma alla fine è sempre da qua wow ah e che ci ha dato? che ci ha dato? il libro dei suoi misteri oh carino ah, questo qua secondo me è dove nascono i suoi misteri mhm vabbè, lo sono venuto da qualche parte bene direi prima che lo vede no, c'è tutte le porte se può mettiamolo tutto al tavolo no, non si può per i si sono messi proprio bene capito dove possiamo mettere dove 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 il tavolo nei figoli sull'alberia ma qua io ho tutto ok ma sei immagato sull'alberia sull'alberia no, mi sono rubicato sopra il frigo il libro me l'avevo messo qua vedi? vedi che l'avevo messo qua yes ora vediamoci dentro qua e passiamo al lato 2 ora vedete ci sono nascosti si si vabbè ho fatto a tormentare pure la sedella l'ha finito al lato 1 l'abbiamo fatto al lato 2 ok prossimo allora ragazzi il video si conclude qui vi abbiamo mostrato la parte 1 la parte 1 se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale sempre del 096 e metteteci un bel like ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao ciao